Ecco il tram di fronte, il tram giallo di Bergamo, di fronte a me la stazione che sono tuttora, è molto bella questa stazione dei treni, ecco se ne va, se ne va, se ne va al tram giallo fino ad Albino, poi andrò anche a Albino perché voglio andare alla Val Bondione dove avevano girato un film 5 anni fa, ma l'importante è che oggi riprenda la mia via, dei bus, oggi 13.15 qui leggo la bacchecca, piazza Brembana, sì 13.15 vado a San Pellegrino, Zogno prima a San Pellegrino e con quel bus comodo, comodo, senza studenti, a quest'ora vado in piazza Brembana dove la coincidenza dell'altro bus per la Val Torta, Guardate che bello, il posteggio dei bus della stazione di Bergamo, oggi sto studiando tutte le province di Bergamo, per di più oggi c'è la possibilità che ho una piccola piccola casa sopra Bergamo, dopo aver fatto domanda dal sindaco, da un amico che mi conosceva, ho la possibilità di avere la casa anche nella provincia di Bergamo piccola ma per me va benissimo perché sono singolo, ecco ecco qua i bus che si ne vanno, là di fronte c'è il bus che va in Vallimagna, a Sanomobono Terme, a Brumano dove io abitavo 4 anni fa, ma oggi decisamente il mio programma è di andare in Val Torta per decidere la situazione con il sindaco che è già positiva, saluto, ecco che arriva dal bus, saluti, saluti da Aldo, Aldo, provincia di Bergamo.